un video 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 youtube chissà fai mettimi ma manca senti ma per trovare quello di prima di fare sull'amministrazione cosa? e allora c'è male un riso qua si riavra c'è la coca cola 3 2 1 infatti ieri quando l'ho fatta la mia mamma ne faceva una mentre mangi? mi sapevo che stava mettendo in qua o le schede non le faccio più oppure le faccio subito tutte e duecento le faccio tutte e duecento se lo tagliamo lo buttiamo dentro? no è possibile se lo tagliamo lo buttiamo dentro con la sciabola si vede il tisioso non congresso non si fa niente è scioccata patrini è scioccata